Ma Vado a fare un giro eh Ok Ciao Buongiorno amici questa mattina un paio d'ore Penso di fare una trentina di chilometri Arriverò a Castelfrentano Buona visione Questa alla mia sinistra anche se non sembra è la nuova zona industriale di Filetto Non ricordo adesso con esattezza quando è stata costruita Mi sembra almeno 10-15 anni fa Non è stato mai costruito un capannone I soldi vanno via ed ormai la natura ha preso il sopravvento Guardate qui guardate Lampioni non usati mai una volta Ormai a terra E devo dire che ci sta da diversi mesi questo palo qui Continuiamo la passeggiata nella nostra zona industriale Guardate che spettacolo Guardate che bello Poi ci si chiede come fanno ad andar bene le cose in Italia Guardate Se solo un paese è sperduto nell'entroterra dell'Abruzzo di 900 abitanti Riesce a fare tutto questo danno Immaginate in tutta l'Italia Come siamo messi Le fabbriche E sullo sfondo i traricci della Terna Aria industriale e artigianale piano dell'Avenna comune di Filetto Interventi cofinanziati dall'Unione Europea Ed appena usciti dalla zona industriale di Filetto Ecco subito dopo la zona industriale di Guardia Grele Comincia ad essere un'altra cosa no? Allora 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 Siamo nella boschia da Maiella E ai suoi piedi Guardia Grele Musica Questa è la località San Vincenzo, un'azione di guardia grade. Musica 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 La mia Caponord. Musica Come vi ho detto oggi in via è un tiro breve, ora dovrò tornare a casa. Musica Mi raccomando se il video vi è piaciuto mettete un bel like, e iscrivetevi al canale, ciao! Musica 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 Grazie a tutti.